salve a tutti con questo piccolo video intendo spiegare questo fantastico programmino che si chiama free2x webcam recorder free2x webcam recorder è un programma che serve a registrare da una webcam e noi lo useremo per crearci una micro tavoletta grafica ecco io ho praticamente fissato una telecamerina a una piccola bajur che punta sul tavolo e quindi puntato su un foglio a quadretti come si vede posso con le patite semplicemente scrivere e registrare e parlare contemporaneamente quindi posso creare una video lezione di matematica o quello che voglio però vediamo questo programma semplicissimo si installa si installa un doppio clic per windows e freeware e nel setting posso decidere quanta la qualità del video con il numero di fotogrammi il codec e la modalità di ripresa io scelgo 640 x 480 perché non mi interessa più di tanto avere un riquadro grande a questo punto si sceglie anche l'audio da che sorgente si vuole che ci sia la registrazione e quando si è organizzato il setting si può cominciare la registrazione adesso io sto registrando con un altro programma ma adesso registro anche con webcam con la webcam clicco record ecco che sto registrando quindi su questo pezzo di carta posso dire ragazzi parliamo delle somme per esempio una decina e cinque unità si sommano a tre decine e sei unità vediamo che cosa fa cinque più sei 11 11 che è composto da una decina e una unità scrivo uno ma c'è una decina che quindi devo mettere sopra l'uno e quindi avere un riporto una decina più un'altra decina fa due decine più tre decine fa cinque decine completamente quindi questo numero 51 è dato da una unità e cinque decine come si può vedere io non faccio altro che scrivere e praticamente la registrazione commentata diventa una piccola video lezione stoppo ed ecco che vado a vedere nel file manager il mio video che ho appena fatto eccolo qui sono 2254 ecco ci clicco su sopra e posso vedere già il video che si è prodotto questo è quello che avevo fatto prima allora mi sembra che sia questo ecco che sto registrando quindi su questo pezzo di carta posso dire ragazzi parliamo delle somme per esempio una decina e cinque unità si sommano a tre decine come si può vedere la qualità è accettabile non è strepitosa dipende dalla webcam che si mette in campo però per quello che si deve fare è eccezionale io posso commentare la matematica commentare una mappa una video lezione e qualsiasi altra cosa il programma è free 2x camera recorder e non c'è altro da fare semplicemente registrare e utilizzarlo e quindi spero che questa video lezione sia stata chiara e buona sperimentazione francesco fusido per il freeware di windows e